Ciao a tutti! Come trascorro le mie giornate mi sto veramente godendo la mia famiglia. È un qualcosa che di solito non abbiamo tutto questo tempo per poter stare in casa e stare con la famiglia e fare le cose insieme a loro. Avendo a disposizione mio figlio mi aiuta perché lo utilizzo tra virgolette come peso, ma scherzo, è più quasi un divertimento per lui. È un'utilità per me, si diverte, si distrae un pochino rispetto a tutto il resto della giornata. Poi per il resto alterniamo a giochi, lo facciamo cucinare, tutte piccole cose che si riescono a fare dentro casa, i travasi, si dipinge, tante cose. Sicuramente è un periodo difficile, è un periodo che passerà. Come ci insegna il nostro sport andremo avanti e riusciremo a uscirne sicuramente più forti.